dentro un strumento direno umm os vomito no bandυu grazie di essere al commercio vi saluto, ciao questo video sarà dedicato al tapping su sul legno ho provato a farmi lunghe anche mezza mirate ma è stato un total fail proprio epic fail guardate quindi oggi partirò col tapping su lo sbagliate su queste scatolette di legno e su ciò che hai contenuto con dentro e poi ho altri diversi concetti in legno come anzi questo è proprio legno poi ho una spazzola e ho una scatchiera ok qui ho due scatole così sembra uno strumento sembra uno strumento numero non è il questo è questo è po come vedete mi sono tagliato i capelli mi sono riuscita a vederli è fighissimo questo suono ok c'è l'info box che vi lascia le informazioni per un giveaway che sta organizzando quest'azienda che si chiama Sword e vende appunto questi orologi in legno che sono a parer mio a parer anche il mio ragazzo splendidi qualità veramente buona non l'ha da dire e sono anche ecosostenibili perché fatti anche il legno è super legno che è bellissimo e fatti anche a mano ok apriamo anche l'altra comunque vi lascio tutti le informazioni nell'info box per il giveaway se questi suoni vi stanno piacendo non dimenticare di lasciare un bel mi piace al video mi aiuta tanto tanto il canale mi aiuta anche a me a capire se questo tipo di contenuto questo tipo di suoni vi possono piacere o meno allora adesso giro questi sono i tuoi orologi adesso ve li faccio vedere un pochino meglio sono sottetto da uomo perché io non non sono solito a portare niente al polso come vedete quindi sarebbe stato un po' lo spreco prenderli per me io sono uno per mio nonno e uno per il mio ragazzo questo questo è quello per il mio ragazzo e adesso fanno dei suoni splendidi con questi orologi lo assicuro fanno dei suoni incredibili anche il cuscinetto questo è tutto splendido e vedete che ha tipo un cronometro qui no un cronometro uno schermino piccolo e molto semplice però è veramente elegante e vogliamo parlare del suono? allora ragazzi ma che suoni incredibili fanno adesso adesso vi faccio vedere anche l'altro dopo il ricambio il focus anche qui dietro è in legno sono splendidi veramente e cosa molto importante secondo me offrono una spedizione gratuita in tutto il mondo quindi anche in Italia secondo è questo qui non so dove sia il fuoco esattamente questo è le lancette scusate le lignette per l'ora questo è per mio nonno è un po' moderno mio nonno comunque ha 90 anni è un po' moderno però glielo ho voluto prendere così perchè ha tutti degli tutti gli orologi uguali un po' sportivi io volevo prendergli qualcosa di elegante ecco qui io lo do oggi e penso gli piacerà tanto perchè è veramente molto bello eccoci qui eccoci qui aren e questo orologio vedete qui c'è tipo qui spiega come il modello c'è una carta la carta dell'azienda e un panno per pulire gli orologi e poi c'è anche un altro panno che ti danno e un olio fatto apposta per mantenere diciamo natural finishing per valida a palsamo gli orologi un legno un legno studiato apposta con un olio studiato apposta le campane per un uomo i nostri tra parentesi la mezza quindi faranno un bel po' di grigio e si al seguino qui in legno anche l'orologio in secolo non sono splendido assurdo proprio ora rimaneggerei per ora tu pensavo che potrei fare un pezzettino di clear sound che ne metto un po' di appunto tapping su linea di vari agenti di kennedy e . che Pasiado vedete se magari vi piacerebbe anche un video noto con il kinsulti topping sul legno magari semplicemente posso togliere la mia moglie da questo video grazie a tutti 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 grazie a tutti